Buonasera a tutti, buonasera, scusate un attimo di attenzione, aspetti appaldi, bravissimo vero? Allora io volevo ringraziare innanzitutto chi mi ha invitato, Mauro, la signora e tutto quanto, so che stasera c'è una serata a tema che riguarda zuppe minestre che come sapete è una tradizione toscana non indifferente, io sono il Fano, questo è il mio cd che comprerete, lui ha già detto di sì, grazie, ma costa poco. Allora stasera il prezzo speciale è di 10 euro, 2 cd 20 euro, 3 cd 30 euro, stasera special price 5 euro perché c'è crisi, quindi 5 euro il cd. Come scusami? Ti ho sentito? Adesso vi faccio sentire giorni migliori che è un augurio di prosperità, amore, pace e buon saluto. Io avevo una giacca fatta di puro raso, io avevo una macchina da fiammola, io avevo diamanti da poter regalare, io avevo una storia. La storia d'oro tutta per me, io avevo dei soldi senza niente da fare, io avevo davvero quello che volevo, io avevo una prima la portavo a ballare e dopo di notte mi diceva di sì. Io sto qui e aspetto i miei giorni migliori. Io avevo una casa, niente di speciale, ma una bella moglie e un figlio da campare, io avevo un lavoro come magazziniere, io avevo un po' tutto, niente per stare bene, io avevo un amico, non li trovo per bene, io avevo uno sguardo solamente per lei. Io avevo una scusa, anche di puro raso, guardavo il mio amico e mi diceva di sì. Io avevo una scusa, anche di puro raso, guardavo il mio amico e mi diceva di sì. Io avevo una scusa, anche di puro raso, guardavo il mio amico e mi diceva di sì. Io avevo una scusa, anche di puro raso, guardavo il mio amico e mi diceva di sì. Io avevo una scusa, anche di puro raso, guardavo il mio amico e mi diceva di sì. Io avevo una scusa, anche di puro raso, guardavo il mio amico e mi diceva di sì. Grazie.